Amici appassionati di smartwatch, ben ritrovati sul canale. Oggi andremo a parlare dell'ultimo arrivato in casa Qbot. Abbiamo visto il C3, il C5, oggi arriva Qbot N1. Bello grande il quadrante, sembra un rugged smartwatch. Qual è il concetto? Economico e batteria a lunga durata. Oltre a 13 modalità sportive misurabili. Allora andiamo a conoscere meglio questo Qbot N1 in questa recensione completa. E se le precedenti confezioni degli orologi di Qbot erano in questo modo qua, molto molto lunghe, beh adesso si cambia, arriva a una confezione più piccola, più minimal, un po' anonima, perché non si capisce cosa ci sia all'interno se non ruotando la confezione. Allora sì, Qbot N1. Una confezione piuttosto scarna, ovviamente l'orologio che arriva fra un attimo, il cavetto USB con i pin magnetici e la manualistica. Non ci sono cinturini di ricambio, non c'è nient'altro. Beh, peccato, e arriva il nostro orologio, il Qbot N1. Un cinturino bello da vedere sicuramente con questo cinturino, serve per avere maggior grip sulla vostra pelle, al vostro polso insomma, e dare meno fastidio se siete sudati. Quindi un cinturino pensato per i mesi più caldi. Ovviamente il pin d'appoggio per la ricarica, tutti i sensori di rilevamento, battito cardiaco e ossigenazione, e doppio blocco del cinturino e ovviamente la fibbia griffata Qbot. Molto morbido, molto fresco, apprezzo il materiale. E apro una piccola parentesi, sembra il discendente del Qbot C3 che già ho recensito. Quindi se non vi siete guardati la recensione, molto molto male. Eccoli qua i due orologi che sono molto molto simili. Secondo me hanno proprio pensato a un passaggio di consegne dalla vecchia alla nuova generazione. Guardatevi anche la review del C3 perché è un orologio low cost che non si comporta affatto male. Eccolo qua, una ghiera bloccata da delle viti, quindi richiama un po' l'orologio rugged, pronto ad affrontare qualsiasi tipo di intemperia. In realtà è semplicemente un orologio sportivo che resiste fino a 50 metri sotto l'acqua. È un orologio che ha due pulsanti fisici e un display rotondo 240x240 pixel da 1.28 pollici. È un TFT-LCD. Non è bello quanto un AMOLED. Vi faccio vedere la differenza fra il Qbot TFT e l'AMOLED di un Amazfit. Ma perché no anche un Amazfit GTS 2 Mini. Guardate proprio la bellezza dell'AMOLED a confronto del TFT classico. Ma si tratta anche di un'altra fascia di prezzo. 13 modalità di sport che si attivano premendo il pulsante fisico in basso. E sono tutte queste qua. E vi dico subito che facendo lo scrolling a volte non recepisce proprio bene il comando. A volte ha proprio l'idea di uno scatto, di una certa scattosità a livello del touch. Non che sia difettoso il display, però il software secondo me non è proprio affinatissimo. 13 modalità, partiamo dalla corsa. Parte il timer e allora potrete monitorare battito cardiaco, quanto vi state allenando a livello di tempo. Per stoppare l'allenamento dobbiamo premere il pulsante in alto una volta e potremo decidere se riprendere o terminare l'allenamento. Questo vale per tutti gli sport. Non abbiamo il GPS integrato, quindi dovremo necessariamente essere sempre connessi al vostro smartphone. E dovrete sempre portarvi lo smartphone appresso. Il pulsante in alto riattiva l'orologio. Vedete? Si accende e si spende e va in standby. Oppure rotazione del polso e questo si riattiva. Eccolo qua, non è velocissimo nella riattivazione. Swipe, swipe verso il basso, classico menu dei toggles, quindi non disturbare le impostazioni, vibrazione e livello di luminosità. Purtroppo non c'è la luminosità automatica. Va settata, vedete, manualmente. Cambia proprio il livello di luminosità. Le impostazioni vedono queste opzioni qua. Tradotte anche abbastanza male. Come potete notare abbiamo la risistemazione al posto della, diciamo, reimpostazione ai dati di fabbrica. Spegnimento informazioni a carica l'app, invece di scarica l'app. Quindi traduzioni, così così. Siamo purtroppo alla prima versione software. Con i futuri aggiornamenti vedrete che la situazione migliorerà. Swipe in orizzontale. Classici widget con battito cardiaco misurato nel corso della giornata. La saturazione, la qualità del sonno, il meteo che viene ripescato dal vostro telefono e poi il controllo della musica. Vi faccio vedere come basta premere sul play e la musica viene riprodotta dallo smartphone. Andiamo a stoppare per rimettere in pausa il tutto. Grazie all'applicazione è possibile anche andare a scattare fotografie direttamente dall'orologio facendo semplicemente un movimento di polso. Con uno swipe dal basso verso l'alto si arriva alle notifiche. Eccole qua. Sono piccole, piccole. Non riempiono tutto il cerchio, ma sono divise come se fossero al centro di una, diciamo, ipotetica colonna. E non possiamo leggere tutto il corpo. Vedete? Solamente il, diciamo, i primi, le prime righe della mail o del messaggio. Questo è un po' un peccato e il font non è che sia leggibilissimo, è piuttosto piccolo, nonostante abbiamo un display abbastanza ampio. Simulazione di una telefonata. Eccola qua. Vedete? Vediamo solamente chi ci sta chiamando e il pulsante di rifiuto. Quindi non possiamo né rispondere né silenziare una chiamata. Facciamo la prova delle faccine. Tante faccine inviate emoticons, quindi inviate sul nostro telefono. Vediamo un po' se vengono visualizzate. Ed eccolo qua. Arriva il messaggio. Purtroppo non riceviamo il nostro orologio. Non legge minimamente alcun tipo di emoticons. Mi sono inviato più di dieci faccine diverse. Non ne vede nemmeno una. Completamente. Testo del messaggio vuoto. Vi parlo di batteria 450 mAh all'interno di questo Cubot N1. Come si comporta? Si comporta molto molto bene. Ovviamente la casa dichiara sempre i valori più alti della realtà. Fino a 25 giorni di utilizzo. Ma ragazzi, se andate ad usarlo con notifiche frequenti, cambio watch faces e magari qualche riproduzione musicale, beh, si ferma dopo 18 giorni, insomma una ventina di giorni, riesce comunque a garantirveli. Non è affatto male. E vi parlo anche di applicazione GloryFit. La trovate su App Store e su Play Store. Questa è la pagina dedicata all'associazione telefono smartphone. Dial setting, tradotta un po' così. Uno store abbastanza ricco di quadranti, ne verranno aggiunti altri, per ora abbiamo questi. Abbiamo il MyDial, quindi quelli che abbiamo scaricato pronti per essere trasferiti sull'orologio. E quelli custom, ovvero abbiamo un solo quadrante che può essere personalizzato con il colore dell'orario diverso, ma possiamo mettere anche una fotografia. Quindi possiamo scegliere un'immagine, centrarla e andare a ricreare il quadrante per essere trasferito poi sull'orologio. A parte che potrete aggiornare il firmware dell'orologio, non ci sono purtroppo aggiornamenti ad oggi, è appena uscito sul mercato. Possiamo attivare le notifiche degli sms, le notifiche delle chiamate entranti e le misurazioni dell'ossigenazione, se quotidiana, continua oppure in determinate fasce orarie. E lo stesso per la frequenza cardiaca, oltre a quali applicazioni possono notificare da telefono a orologio. Purtroppo, cari ragazzi, non abbiamo Telegram. Telegram arriverà, sono sicuro, con altri aggiornamenti, ma ad oggi Telegram non compare nella lista delle applicazioni. È realizzato prevalentemente in acciaio e policarbonato, con un leggerissimo, ma leggerissimo scalino dalla ghiera al livello del vetro, proprio così, per proteggere il vetro quando magari siamo un pochino più sbadati e picchiamo, sbattiamo l'orologio contro delle superfici. La rotazione, ve l'ho detto, non è velocissima e per cambiare il quadrante direttamente dall'orologio dovrete attivare lo schermo, tenere premuto e poi andare a sfogliare i quadranti. Non sono tantissimi di default, ma avrete l'applicazione che vi consentirà di personalizzare completamente il vostro orologio. Peccato che la sincronizzazione dei quadranti, nel cambio proprio di watch faces, sia lenta. Quando andate a selezionare un quadrante dall'applicazione ci metterà circa 40 secondi a passare dal telefono all'orologio. È un tempo un po' snervante e speriamo che con i futuri aggiornamenti la situazione migliori. Niente GPS integrato, quindi sarà legato a vita allo smartphone e un quadrante bello ampio, anche se abbiamo visto che le notifiche hanno un font non proprio azzecatissimo. Un po' piccolo, un po' bruttino, insomma, anche le traduzioni oltretutto sono da rivedere. Un orologio che costa ufficialmente 49 euro, ma è già in promozione, chissà come mai, essendo una fascia low cost, si trova intorno ai 29 euro. Ricorda molto il Cubot C3 che abbiamo visto qualche mese fa e si stacca completamente dal filone del C5. Il C5, a mio avviso, è l'orologio di Cubot su cui puntare. Se volete un orologio molto bello da vedere, molto performante, beh, io vi dico, guardatevi il Cubot C5 che trovate in recensione qua sul canale. Questo N1, sì, funziona benino, però non spicca per nessuna particolarità. È vero che costa 29 euro, ma è anche vero che il panorama degli smartwatch è veramente molto, molto ampio. Quindi non so se riesco a consigliarvelo. Fatemi un po' sapere quello che ne pensate. Noi ci vediamo prestissimo con nuovi video, nuove recensioni. Se non lo avete ancora fatto, iscrizione al canale e un bel like al video. Ragazzi, alla prossima. Ciao!